musica 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 Enzo, ma per chi sto chiale? ho scoperto di essere presbite ma non ero tu cattolico comunque Enzo ieri sono arrivati i tuoi zii dall'estero che io non capiva niente parlavano tutte sciammate ma che lingua parlano? ma di quei zii stai parlando? oh tu zii Antonio con sua moglie Graziella ma qual'estero lingua? su, so domuti all'alba vincerò vincerò oh ma che è la luce signora? io mi stai scantando tranquillo Enzo, sicuramente ora ritornerà io senza luce ho paura non hai paura del buio tu? ma qual hai paura del buio Enzo? nell'ultima bolletta che mi ha scantando io mi scantando che sarà la luce che roba io minchia Enzo ieri mi hanno invitato a cena minchia tutti i fortuna tu a tavola franga oh mi hanno detto vanni domani vieni a casa nostra che ti facciamo mangiare la pasta con un euro buona la pasta con un euro che ci fai da e aspettando a tavola c'è un euro non ti preoccupare non ti preoccupare io mi scantando io mi scanto la scura ma per chi ha il domani? ti ho detto nell'ultima battuta stai scantando? un secondino ora la rimetto non ti scanto senza luce io mi scanto ma a dare buona la battuta ma ti mi sto dicendo mi sono d'occupare che ora ritornerà sicuramente scusa tu non hai paura del buio? io del buio ho paura ti sto dicendo ti hanno appena tutto per dirlo mi hanno invitato la cena non ti fortuna nulla e basta la casa continuo stavamo fornuti per oggi l'unico qui non ci è? non ci stessa c'è già da